ci sono diversi film messicani in programma al festival del film di locarno e il film in concorso te prometo anarchia l'hanno girato proprio per le strade di città del messico vediamo se per le vie di locarno riesco a trovare qualche specialità messicana da mangiare si intende secondo me alla rotonda del festival c'è quello che fa il caso nostro penso proprio di essere nel posto giusto per mangiare messicano vediamo cosa mi preparano di buono Quacamole, nachos e chili con carne